Ben ritrovati su Medio e Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Si allontana verso l'Egeo, il vortice depressionario che nei giorni scorsi, soprattutto nelle ultime 48 ore, ha interessato la nostra regione con precipitazioni localmente anche consistenti e soprattutto una sensibile diminuzione delle temperature che abbiamo avuto nelle ultime 24 ore per venti che si sono orientati da nord-est. Ne avevo parlato nello scorso intervento. Ora, questa mappa prevista per la giornata di sabato 16 novembre, su questa mappa notiamo come l'alta pressione tende a rinforzarsi sia pur temporaneamente sul Mediterraneo e sulla nostra regione, mentre una circolazione depressionaria molto profonda, possiamo apprezzarla sulla Scandinavia, con annesso fronte perturbato, tende ad abbassarsi di latitudine e molto probabilmente ci interesserà nel corso della prossima settimana, ma ne riparlerò a breve. Intanto, vediamo il tempo previsto per sabato 16 novembre. Ecco, sulla nostra regione avremo condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, con temperature in lieve aumento, soprattutto nei valori massimi. Farà freddo ancora al primo mattino per ventilazione che insisterà ancora da nord o da nord-est, ma in spegnimento nel corso della giornata. Il mare quasi calmo o poco mosso. Per la giornata di domenica, 17 novembre, cielo poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ecco, avremo qualche nube più nel corso della giornata di domenica, ma con temperature ancora in ulteriore lieve aumento, con valori che si porteranno lievemente al di sopra della media stagionale, relativamente alle temperature massime questo. La ventilazione si disporrà da ovest, dunque non avremo più la tramontano o il grecale, e il mare sarà quasi calmo o poco mosso. Per l'inizio della prossima settimana, ecco che inizierà questa modifica che avevo preannunciato, la circolazione depressionale sul nord Europa tenderà a scendere, come abbiamo detto, di latitudine. Il fronte perturbato, ad essa collegata, interesserà dapprima le regioni settentrionali e poi sfilerà verso sud-sud-est. Tuttavia, la traiettoria di questa circolazione depressionale, che è a carattere freddo, quindi colma di aria fredda inquieta, non è ancora inquadrata bene. Molto probabilmente il suo target saranno i Balcani, ma interesserà marginalmente anche la nostra regione, soprattutto nella seconda parte della prossima settimana. Dunque, tra mercoledì e giovedì potremo avere, oltre alle precipitazioni, anche una sensibile diminuzione delle temperature, con valori che andranno nuovamente al di sotto della media stagionale. Notate come l'alta pressione delle Azzorre sarà in pieno oceano atlantico con un massimo che si porterà sulla Groenlandia, dunque collegata all'alta pressione che abbiamo sulla Groenlandia. La ventilazione, questo è importante, nei primi giorni della prossima settimana tenderà a rinforzare da ovest e da sud-ovest, soprattutto nella giornata di martedì potremo avere venti anche molto forti da occidente. Dunque, per ora termino qui, per maggiori dettagli vi invito come sempre a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.